Questa storia racconta la vita di un ragazzo che si chiama Teresio, che naturalmente ha una mamma di nome Clelia. Non posso rimanere indifferente così davanti a questo scendio. Non posso permettere che i miei coetanei siano sotto le armi e io no. Non posso permettere che i miei coetanei siano sotto le armi e io no. Non posso permettere che i miei coetanei siano sotto le armi e io no.